Giovani fiduci e istituzioni, l'università come luogo di partecipazione attiva. E' stato questo il tema dell'incontro di battito di questa mattina presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Salerno al campus di Fisciano. Ospite d'eccezione Roberto Figo, presidente della Camera dei Deputati. L'evento che ha visto i saluti del rettore dell'Ateneo salernitano Aurelio Tomasetti è stato introdotto dal deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Jovino. La partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese, ha detto Jovino, è fondamentale per radicare nelle generazioni futuro spirito di comunità, unione e appartenenza. L'iniziativa con la presenza della terza carica dello Stato ha lo scopo di rendere i ragazzi ancora di più consapevoli del tessuto dei valori che dà spondo al nostro ordinamento costituzionale e che anima il funzionamento delle istituzioni repubblicane. Dare la possibilità alle nuove generazioni di comprendere l'importanza di una partecipazione consapevole alla vita pubblica, continua Jovino, è il presupposto indispensabile per poter formare una classe dirigente che sia in grado di intercettare i bisogni e le problematiche dei cittadini. In questa ottica l'Università è da sempre osservatorio privilegiato per intuire l'avvenire del nostro Paese. Al di là di avvicinare i ragazzi al mondo della politica, l'importante è che i ragazzi abbiano condizioni di causa che tutte le azioni che compiono significa fare politica. La politica significa scegliere, significa scegliere come spostarsi, significa scegliere che tipo di università volere costruire, significa dibattere la società, quindi non è tanto un avvicinamento al mondo politico, ma comprendere che la politica è un qualcosa che interessa a tutti perché influisce sulle vite poi di tutti quanti ed è bene partecipare. Le università sono dei luoghi centrali, sono il giusto percorso dopo una scuola che sia altamente formativa e che dia la cultura a tutti i nostri ragazzi. E poi si arriva all'Università che devono essere luoghi pubblici, luoghi indipendenti, dove c'è sempre il merito che prevale, dove la ricerca sia un fiore all'occhiello in ogni dipartimento, dove tutti i ragazzi possano accedere. E non voglio più ascoltare storie di chi è lontano che dice che qui non ha trovato spazio e da altre parti invece ha trovato spazio. Le nostre università devono essere libere, pieni di merito, pieni di indipendenza, con tanti fondi per la ricerca perché poi le ricerche che fanno queste università possono essere applicate alla vita reale nei nostri comuni e se comuni e università lavorano insieme noi abbiamo grandi progetti di valore aggiunto sul territorio che può essere di tutto, dalle energie rinnovabili fino ad arrivare ai trasporti pubblici, alla rigenerazione urbana, all'arte, qualsiasi cosa. Presidente, sul reddito di cittadinanza, delle file piuttosto lunghe si sono registrate in Lombardia e in Piemonte. Come vede non si deve dare mai niente per scontato.